Ecco Amherst New Zealand che taglia il traguardo della seconda regata, si porta sul 2-0 nella finale dell'America's Cup dopo una splendida giornata di regate, molto filibrata la prima prova, netta vittoria invece nella seconda per Amherst New Zealand, cerca un minuto di vantaggio in questa seconda regata, moltissima gente, i Fossi e i Kiwi ricominciano a crederci, Amherst New Zealand la parte più veloce di questa 34 è un'altra scat, ecco qua il Defender che taglia in questo istante la linea d'arrivo a 40 km di velocità, buona velocità dimostrata anche da Oracle, il buon foiling ma il buon handling di Amherst New Zealand, la capacità di strambare sempre alla perfezione e l'estrema freddezza sono state la chiave del successo dei miei regati di oggi, i Fossi e i Kiwi in gran festa a San Francesco Amherst New Zealand 2, Team Oracle 2.6, 0 Amherst New Zealand 3, Team Grazie a tutti.